Dieci rose poggiate su alcune delle quasi 8.000 tombe del cimitero militare americano di Nettuno e una breve preghiera di raccoglimento. Poi il Papa ha celebrato la Messa in occasione del 2 novembre, commemorazione dei defunti, per ricordare i tanti giovani uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale. Migliaia di speranze rotte, ha detto Francesco nell'Omelia Braccio, non più la guerra, ha aggiunto, non più questa strage inutile in un mondo che continua ad essere in conflitto. In guerra si perde tutto, si distrugge se stessi. Oggi preghiamo per tutti i difunti, tutti, ma in modo speciale per questi giovani. In un momento dove tanti muoiono nelle battaglie di ogni giorno, in questa guerra a pezzetti, preghiamo anche per i morti dolci, i morti di guerra, anche bambini, innocenti. Questo è il frutto della guerra, la morte. E che il Signore ci dia la grazia di piangere. Infine, l'omaggio del Papa alle fosse Ardiatine, luogo simbolo della persecuzione nazista a Roma. Qui sono raccolte le tombe di 335 persone trucidate il 24 marzo 1944. Francesco ha pregato in silenzio dinanzi alle grotte della strage, poi insieme al Rabbino di Segni nel mausoleo che custodisce le salme. Fa, o Signore, è stata la preghiera del Pontefice, che in questo luogo consacrato ci togliamo i calzari dell'egoismo e dell'indifferenza e ascoltiamo in silenzio il Tuo nome, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio di Gesù, Dio dei viventi.